ciao a tutti ragazzi e ragazzi eccoci tornati in questo nuovo video questa intro è registrata dopo che siamo già stati in fiera al garda con perché ho preferito cambiarlo non piaceva quella che era venuta questa è anche tutta la stanchezza con cui siamo andati la fiera erano bolliti siamo arrivati alle nove di sera domenica veramente devastati come potete vedere guardate la dermatite come si incentiva sul mio viso ma vabbè a parte questo vi raccontiamo un po' qual è stata la nostra esperienza in fiera purtroppo dovevamo incontrare jack nobile appunto il mago youtuber purtroppo non l'abbiamo fatto perché altrimenti avremmo perso diciamo la seconda fila del concerto di giorgiovanni che come sempre è stato top ma che vedrete nel prossimo video che uscirà nella seconda parte del video del garda con in questa parte infatti metterò gli stand presenti in fiera quello che ho ripreso e l'area dei mattoncini mentre tutti gli eventi ci saranno nel prossimo video quindi detto ciò ragazzi buona visione appena entrati i ragazzi siamo arrivati anche prima dell'apertura ovviamente iniziamo da dove da pampling come al solito però oggi che non uscisse la penna invece un'altra penna adesso che scriverci sotto nei commenti perché troviamo sempre lui in ogni posto dove andiamo a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.